Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate quello che vi sto per annunziare. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima epistola, dice queste cose ai santi. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliuolo di Dio. Quindi dovete sapere, voi che siete sotto il peccato, che siete sulla via della perdizione, che la vita eterna è posseduta da coloro che credono nel nome del figliuolo di Dio. Cioè da coloro che credono in Gesù Cristo. Perché questo è il nome del figliuolo di Dio. Dunque la vita eterna si ottiene mediante la fede, cioè credendo in Gesù Cristo. la vita eterna non si ottiene per opere, la vita eterna non si ottiene facendo pellegrinaggi o mortificando il proprio corpo o diciamo facendo l'emosine, per farvi alcuni esempi. No, la vita eterna si ottiene per grazia da Dio e la ottengono coloro che credono nel nome del figliuolo di Dio. D'altronde Gesù stesso disse che chi crede ha vita eterna. Quindi dovete prestare la massima attenzione alle parole di Gesù. E altresì scritto, è ancora scritto, chi crede nel figliuolo ha vita eterna. Quindi la vita eterna è il dono di Dio. non lo si può guadagnare, non lo si può meritare, lo si ottiene per grazia da Dio, mediante la fede. Ma che cosa significa credere nel nome del figliuolo di Dio? vuol dire credere che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo significa credere nel nome del figliuolo di Dio, credere nel Signore Gesù Cristo. Dunque, chi crede ha vita eterna. Quindi non è un parlare presuntuoso quello di quelli che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo quando dicono abbiamo la vita eterna. Perché la scrittura dice che la testimonianza è questa e Dio ci ha data la vita eterna e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo alla vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita. Quindi noi che abbiamo creduto nel nome del figliuolo di Dio vi dichiariamo che noi abbiamo la vita eterna. Ma non perché ce la siamo meritata, ve lo ripeto. Noi l'abbiamo ottenuta per grazia mediante la fede. E la nostra esortazione nei vostri confronti qual è? È quella appunto di ravvedervi e di credere nel nome del figliuolo di Dio per ottenere anche voi la vita eterna. Quindi la certezza che quando morirete vi dipartirete dal corpo e andrete ad abitare con il Signore in cielo, in paradiso, nel regno dei cieli. Perché è là che vanno coloro che muoiono in Cristo. Essi si dipartono dal corpo e l'anima loro vada ad abitare con il Signore nel regno dei cieli. Nella gloria. Essi dunque entrano nel riposo di Dio e là si riposano dalle loro fatiche. È meraviglioso avere la vita eterna. Ma badate bene che se rifiuterete di credere nel nome del figliuolo di Dio la scrittura è altrettanto chiara a tale riguardo. Chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra lui. Quindi dovete sapere questo che se rifiuterete di credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo voi non vedrete la vita e l'ira di Dio rimarrà sopra di voi considerate l'ira di Dio qualcuno di voi dirà ma perché l'ira di Dio è sopra di me? Sì l'ira di Dio è sopra di te a motivo del peccato che tu servi perché tu sei un peccatore servi il peccato quindi sei un trasgressore della legge di Dio e quindi l'ira di Dio è sopra di te tu sei un nemico di Dio non hai scampo sei un nemico di Dio perché appunto sei un peccatore e allora dato che sei un peccatore ciò che ti aspetta quando morirai da non credente appunto è che cosa? L'inferno cioè quando ti dipartirai dal corpo una volta morto nei tuoi peccati tu ti dipartirai dal corpo ma non vedrai il paradiso non entrerai in paradiso ma te ne andrai all'inferno in un luogo di tormento dove arde il fuoco e dove vanno appunto le anime di coloro che muoiono nei loro peccati capisci quindi che cosa ti aspetta dopo la morte? Con la morte non finisce tutto come dicono molti finisce solamente la vita terrena ma l'essere umano continua a vivere in un'altra forma con la sua anima ma continua a vivere e tu se rifiuterai di credere nel nome del figliolo di Dio te ne andrai all'inferno in questo luogo terribile orribile dove c'è il pianto lo stridore dei denti e perché perché in mezzo al fuoco c'è il tormento quindi io ti ho voluto mostrare la via della salvezza che è una la fede nel figliolo di Dio non c'è un'altra non c'è un'altra via quindi ravvediti e credi nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo il figlio di Dio e il Signore avrà misericordia di te ti darà la remissione dei peccati quindi ti cancellerà i tuoi peccati ti giustificherà sarai reso giusto e sarai riconciliato con Lui e appunto avendo la vita eterna avrai poi la certezza di dove andrai dopo la morte cioè avrai la certezza di andare ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli noi che ti annunziamo questo noi che abbiamo ricevuto da Dio la vita eterna ti possiamo assicurare ti confermiamo che è proprio così chi ha il figliolo la vita e Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo quindi te lo ripeto ravvediti e credi nell'Evangelo credi nel nome del figliolo di Dio e il Dio manterrà la sua parola donandoti la vita eterna ma ti avverto di nuovo se rifiuterai di credere nel nome del figliolo di Dio te ne andrà in perdizione perché là vanno i peccatori chi ha orecchi da udire oda di Dio 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 di Dio